Wow, davvero wow. Oggi questa puntata inizia in maniera diversa perché faccio fatica a trovare degli aggettivi che possano rendere come mi sento in questo momento. Perché è stato un 2022 difficile, nel senso che non per carità niente di complicato, però non è stato facile vivere tutto questo 2022 dove il prezzo di bitcoin, il prezzo delle cripto non faceva altro che scendere. Sapete che per me questo è un lavoro a tutti gli effetti, quindi sia come investitore è stato un anno abbastanza difficile, per carità niente di troppo complesso, però insomma non è stato facile. E anche sotto il punto di vista lavorativo sapete che anche da parte sia mia lata professione per quanto riguarda gli investimenti e sia mio lato professione come per quanto riguarda condivisione di informazioni educative riguardanti le criptoalute, ambito finanziario, insomma non è stato facile perché l'interesse è calato molto. E devo dire che rivedere bitcoin a questi livelli, livelli che non eravamo abituati a vedere da praticamente aprile 2022, ragazzi torniamo indietro e non livelli ancora di settembre 2021, febbraio 2021, quando magari in molti per la prima volta avevano sentito parlare di bitcoin, mi davvero scalda il cuore tantissimo, sono molto felice di tutto ciò, sono estremamente grato e questo è solo l'inizio, ok? Non l'inizio nel senso che allora da qua alle prossime settimane continueremo a salire e basta, assolutamente no, ma sono felice perché ce lo siamo meritati, ce lo siamo meritati quindi davvero sono molto grato di tutto ciò ragazzi, davvero estremamente grato, grazie per essere stati qua tutto questo tempo, aver seguito bitcoin tutti questi mesi, soprattutto quando le cose andavano male, perché? Perché effettivamente non ci sono nuove persone, quindi nel mercato sì, magari qualcuno di nuovo c'è, vi saluto, benvenuti nel mio canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e mettete ovviamente un mi piace, ma la cosa incredibile è vedere bitcoin dopo tutto quello che è successo, essere ritornato a questi livelli che, perché dico solo l'inizio? Perché ragazzi non abbiamo neanche fatto i massimi storici, quando faremo i massimi storici allora lì veramente, l'ho detto, faremo una grande festa, lì poi veramente sarà il momento in cui ci facciamo tutti gli applausi a vicenda, però è bello, è bello rivedere bitcoin a questi prezzi, è bello sentirsi, cacchio avevo ragione, allora tutte le fatiche che ho fatto, ma ragazzi pensate semplicemente il salvador, che aveva praticamente accumulato sui massimi, comprato bitcoin sui massimi, con un semplice piano di accumulo in tutto il bear market è tornato in profitto, in questo momento, Michael Saylor che se la sta, ragazzi, godendo tantissimo, sono sicuro che molti di voi dopo un 2022, comunque anche un inizio del 2023, che hanno fatto fatica, erano magari in perdita, in questo momento sono tornati in profitto e la sensazione di dire cacchio, avevo ragione, so che è veramente bella. Per quanto riguarda il prezzo di bitcoin, comunque ovviamente iniziamo con la puntata in maniera classica, questi non sono consigli finanziari, non sono un consente finanziario, per cui fate sempre le vostre ricerche prima di mettere a dischi il vostro capitale all'interno dei mercati finanziari e ti ricordo che qui sotto in descrizione trovi tutti i link agli exchange che io consiglio per operare con le crypto all'utile, i loro relativi tutorial, i loro relativi tutorial che io ho fatto qui su youtube e anche i loro relativi bonus di benvenuto. Quindi qui sotto trovi tutto, anche questo video dove spiego quali sono i migliori exchange da utilizzare. Ma tornando a noi, mettete mi piace se non l'avete ancora messo, cosa succede su bitcoin? Cosa fare adesso? Ragazzi, questo è il momento di godere. Ok, è il momento che uno si sveglia e dice, ah, che bello, vi ho condiviso oggi il video della ricerca della felicità, no? Questo è il momento che io chiamo felicità, perché è molto bello, molto bello, sono sensazioni che difficilmente si provano se non si vivono in prima persona. Bene, 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 come sapete per me non siamo ancora effettivamente ad un periodo conclusivo per quanto riguarda la bull run, secondo me siamo ancora in una fase iniziale, come potete vedere da questo grafico e come vi ho spiegato molto bene in questo video dove vi sono andato a dire quando inizierò a vendere bitcoin in maniera pesante, ma c'è anche da dire che ragazzi, sì, sono andato a prendere ulteriori profitti a 41.000 dollari circa. Perché? Perché come vi ho detto, ragazzi, qua sui miei gruppi telegram completamente gratuiti, trovate il link qui sotto in descrizione per unirvi. Tra l'altro vi ho comunicato che dal 17 novembre tornerà la tana della tartaruga, ragazzi, la tana della tartaruga tornerà, dopo un anno esatto, tornerà. L'ho chiusa l'anno scorso perché insomma di cose da dire ce n'era un gran poco, c'era una cosa da fare ragazzi, quando bitcoin era 15.000 dollari, una ed unica cosa da fare. Ora, siamo un anno dopo col prezzo di bitcoin più alto, ci sono più opportunità sul mercato, ci sono più cose tra virgolette da fare, c'è più volatilità, c'è più interesse, quindi ha senso fare una tana della tartaruga e inizieremo il 2024 col piede giusto. Comunque, come vi ho scritto nel gruppo, lo so, lo so che è difficile da fare, però seguite la vostra strategia ragazzi, seguite la vostra strategia di investimento e non è che se il prezzo sale o qualcuno dice qualcosa di diverso allora non la seguo. Io è da praticamente anni che ve lo dico, dovete avere una strategia di investimento prima di investire. Non è che, Fede ma cosa dici, questo è il momento, fatti una strategia di investimento, seguila e io come mi comporto con bitcoin, come vi ho spiegato, io faccio un piano di accumulo semplicemente su bitcoin quando le cose vanno male e quando il prezzo secondo me è a livello interessante e faccio un piano di accumulo in uscita, perché prima era ovviamente in entrata, quando le cose secondo me vanno molto bene, anzi fin troppo bene e il prezzo è a livelli che io considero molto interessanti, per cui inizia a uscire, però c'è il video lì dedicato. Ma quello che vi voglio dire è, lo so che è difficile, ma seguite la vostra strategia. Quindi se vi siete fatti una strategia di investimento dove c'era scritto, mi raccomando l'avete fatta, avevate degli obiettivi di investimento quando avete iniziato a comprare le cripto, lo spero, ecco, magari uno, una strategia di investimento può essere no, però sai, io effettivamente bitcoin non lo vendo fino a quando non passano dieci anni, ecco, seguila allora. Il discorso è non ascoltare quello che ci sto dicendo io, tu devi avere una strategia di investimento che ti sei costruito e seguirla a qualsiasi costo. Cioè la mia strategia di investimento, ad esempio, dice che a un certo punto si inizia a uscire piano piano su bitcoin. Ecco, io la devo seguire, nonostante il prezzo salga, nonostante mi senta in questo momento un mega chad, perché è stato un anno incredibile, ragazzi, incredibile, c'è le mie aspettative, lo sapete, per chi mi segue da praticamente anche l'anno scorso, qua a 15.000 dollari, ero molto positivo su bitcoin e vi dicevo, ragazzi, secondo me 2023 massimo target di prezzo, se va bene, se va bene, è 28.000 dollari. Quindi, ovviamente, ho goduto e ho detto, poi, se per carità il prezzo andrà oltre, cioè, sono solo che felice, ragazzi, perché non è che vado a vendere tutto, non è che si va a vendere tutto, si esce sul mercato, l'ho spiegato nell'altro video, quello su quando iniziare a vendere, ma in ogni caso sono molto felice di questo 2023 ed è andato contro ogni mia più grande aspettativa, ragazzi, mai mi sarei aspettato di vedere bitcoin a 41.000 dollari alla fine del 2023, me lo sarei aspettato nel 2024, ma mai quest'anno. Quindi, per me, capite che io, che mi aspettavo questi prezzi l'anno prossimo, già ad essere arrivati quest'anno a questi prezzi, posso solo che essere felice. E pensate al mio portafoglio, quanto è felice in questo momento. Più 150% da inizio anno, pazzesco, ragazzi, pazzesco, veramente pazzesco. E sono veramente contento, anche di tutto quello che è successo in questo 2023, perché veramente di errori faccio fatica a trovarne in questo 2023. Spero che adesso non ci siano nell'ultimo mese. Ma non ci sono perché seguino strategie di investimento. E ve lo dice uno, che come vi ho già ripetuto tante volte, nel 2021 ha fatto l'errore di non andare a prendere profitti, non andare a prendere quei profitti non realizzati, perché fino a quando non sono realizzati, cioè fino a quando non cliccate il tasto sell, quei soldi non sono reali. Quindi io non è che vi dico, ragazzi, il prezzo allora... Cioè, la questione è prendere profitti. Non deve essere vista come io prendo profitti perché allora ricompro più basso. Lì è speculazione, è trading, benissimo. E si può fare, ovviamente. Ma il discorso che sto facendo io è semplicemente seguite una strategia di investimento che è, come vi ho detto tante volte, nel settore cripto c'è tanta volatilità, c'è tanto interesse, i percentuali sono alti, vi permette di moltiplicare i vostri soldi davvero in maniera molto alta rispetto ad altri mercati, ma poi bisogna comunque proteggere quel capitale. E le cripto sulla protezione del capitale sono troppo volatili, quindi va bene ovviamente se ci diede tutto, ma occhio. Quindi, come vi ho detto, anche oggi godiamoci lo spettacolo finché durerà, perché ovviamente un local top prima o poi ci sarà, quei crolli da meno 10, meno 20, meno 80% al riferando, al momento siamo all'ottava candela settimanale verde consecutiva, i prossimi 12 mesi saranno epici, ma sempre cautela, ok? Sempre cautela, perché comunque abbiamo fatto delle settimane incredibili, ma prima o poi, come è normale in un trend rialzista, dei momenti correttivi ci sono. Quando, ragazzi, è difficile dirlo, è difficile prevedere il top, non si può prevedere il top, ma, ovviamente più andiamo avanti, più è sempre più probabile. Quindi, vedete che anche qua nello scorso ciclo, giusto prendendolo come riferimento, ci sono stati dei momenti in cui il prezzo ha fatto delle candeloni, ma comunque ci sono state poi dei momenti in cui il prezzo è andato a correggere, ok? Correzione qua, qua, adesso fatemi prendere il pennellino, qua, 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 ok, quindi ci sono dei momenti in cui comunque il prezzo va a correggere, per cui ci sono sempre delle opportunità sul mercato, soprattutto lato poi anche al coin, sapete che secondo me non è ancora il momento, però ci siamo molto vicini. In ogni caso, il discorso è, vedete che io credo, comunque, sono rimango dall'idea che la Bull Run partirà effettivamente dall'anno prossimo, siamo in una situazione in cui il prezzo in questo momento sta facendo quello che deve fare pre-halving e bisogna avere calma, ok? Ovviamente, ripeto, lato operativo, mai mi sarei aspettato questi risultati nel 2023, nel senso, ve l'ho sempre detto ragazzi, anche se nella prossima Bull Run Bitcoin supera i 120.000 dollari, che è proprio il mio target, proprio se le cose dovessero andare bene, sapete che io sono più su 80, 90, 100 e va a chiudere bene, che tra l'altro è praticamente un 100% da questi prezzi, nella prossima Bull Run, ma se, se arriva a 200.000 dollari, ipotesi, io sono solo che felice, ok? Perché, nelle mie, cioè, io sono contento che Bitcoin abbia successo, ma, ripeto ancora una volta, il capitale bisogna proteggerlo, quindi, quando fate tanti soldi, poi ovviamente questo, ragazzi, varia da anche la grandezza del portafoglio che avete, più soldi avete, più dovete prendere rischi inferiori, meno soldi, magari ci sta avere più iolo, tante volte dico che proprio quelli che rischiano di più sono quelli che hanno meno soldi, perché, devono fare, nell'altro investimento, cioè, se tu investi 100 euro, se fai, ci riflettevo ieri, investo 100 euro per fare un per due, cioè, ragazzi, non ha tanto senso, ok? Quindi, ovviamente, chi ha meno capitale, rischia di più e ovviamente perde di più, chi ha più soldi tende a rischiare di meno e guadagna poi alla fine di più, perché funziona così, purtroppo, il mondo finanziario. Per cui, cosa aspettarsi su Bitcoin adesso? Vediamo, fino a quanto durerà questo grande pump, i livelli di prezzo sono sempre gli stessi, nel senso che, in questo momento, abbiamo superato i 40 mila dollari, che è un primo target psicologico importante, abbiamo i 46 mila dollari, che lo vedete subito, ad occhio, questo livello qua di prezzo, se dovessimo arrivarci, 46, poi abbiamo i 50 mila dollari, target psicologico, e poi i 60 mila, ma, andando verso l'alto, le resistenze saranno sempre di meno, come supporto, in questo momento, abbiamo i 36 mila dollari, molto bello, sarebbe bello rivedere il prezzo qua, e poi, ovviamente, abbiamo i 32 mila dollari, ok? 36, 32 mila dollari, come supporto, abbiamo anche i 40 mila dollari, anche se, bisognerà vedere come reagisce, però, 40 mila dollari, supporto, 40 mila, 36, 32, verso l'alto, 46, 50, 60, 70, e poi, price discovery, quindi, il cielo è il limite, verso l'alto, verso il basso, abbiamo dei supporti, come vi dicevo, però, mi raccomando, ragazzi, non fatevi prendere troppo dalla FOMO, non fatevi prendere troppo da, l'euforia, seguite una vostra strategia di investimento, io, personalmente, l'ho seguita, siamo tutti felici e contenti di vedere Bitcoin salire, ma, occhio al vostro portafoglio, nel senso, cercate di salvaguardare il vostro denaro, ovviamente, non fate l'errore, di, vendere tutto, tanti, me l'avete scritto in privato, Fede, ho fatto l'errore di vendere tutto, ce l'avevo comprato bene a 20 mila, ho venduto tutto quello che avevo, a ipotesi, 25-30 mila dollari, e adesso mi ritrovo al prezzo di 40 mila dollari, mi sento un po' male, perché dico, allora, da un punto di vista oggettivo, non hai fatto male, perché comunque hai guadagnato soldi, ok, e magari se hai comprato a 20, e venduto a 30, sono praticamente un, cos'è, un 50%, un 50%, praticamente, è ottimo, cioè hai sovraperformato comunque l'SP500, e tanti altri fondi di investimento, nell'investimento di un anno, però chiaro, vedere magari i pezzi a 40 mila giro, non può le scatole, infatti bisogna fare un piano di accumulo in uscita progressivo, non bisogna mai vendere tutto, bisogna comunque lasciar correre i propri cavalli vincenti, e bisogna comunque, ripeto, avere una strategia, perché se io seguo la mia strategia, che mi sono fatta a priori, con degli obiettivi, e quegli obiettivi li raggiungo, sono felice, cioè mettete quelli che giocano, ora è un esempio un po' così, però, quelli che giocano, a quelli dei pacchi, no? Quelli che aprono i pacchi, io ho il pacco, con 100 mila euro, ipotesi, ho l'altro pacco, tutti gli altri pacchi, mi arriva l'offerta del dottore, offerta da 50 mila euro, io avevo come obiettivo, prima di andare lì, di magari, non so, comprarmi una nuova macchina, ipotesi, o comunque magari, pagare l'università, per i miei figli, quello che è, quei 50 mila euro, sono il mio obiettivo, chi se ne fega poi, per quello che avrei potuto avere, io già, ho ottenuto il mio obiettivo, e questo che secondo me è importante, poi ci sono investimenti, di lungo termine, e lì il discorso, si va più su, dinamiche, sia di obiettivi finanziari, sia di dinamiche temporali, però in ogni caso ragazzi, eccoci, tenevo a ricordarvi di, preservare comunque sempre il vostro capitale, gestire bene la percentuale che avete investito, la percentuale di liquidità, la percentuale che avete investito sulle cripto, su altre asset class, cioè, mi raccomando, dovete sviluppare questo modo superandi, per quanto riguarda gli investimenti, perché sennò, andrete sempre in balia degli eventi, in balia quello che dice qualcun altro, ah ma se qualcuno è così, no, ok, perché poi, in base al prezzo, prendete decisioni, quindi prezzo sale, buy buy buy, prezzo crolla, vendo vendo vendo, e non farete mai soldi, quindi, mi raccomando ragazzi, godiamoci questo momento, davvero, grandi tutti, bravi, non è ancora proprio arrivato il momento, la ciliegina sulla torta, per dire, cacchio, 70 mila dollari, sarebbe lì proprio il momento, che ci possiamo applaudire, però godiamoci questo momento, godiamoci questo spettacolo, cautela, ok, l'oro, tra l'altro, ha fatto un recente pump, questa notte, e insomma, non è proprio, un bel segno, potrebbe essere un segno di risk off, perché, guardate cosa succede ai mercati, quando, i tassi di interesse vengono tagliati, ok, quindi, ovviamente sempre cautela, godiamoci questo momento, e, appunto ragazzi, i prossimi 12-18 mili, saranno epici, ok, soprattutto sulle altcoin, perché, poi su bitcoin, ragazzi, purtroppo, è limitato, nel senso, sotto un punto di vista speculativo, eh, sotto un punto di vista tecnico, generico, è tanta roba, ma sotto un punto di vista speculativo, può fare un 100%, che magari, sono comunque cifre incredibili, no, però, più di così, se qualcuno cerca veramente, di provare a fare, percentuali, che possano cambiare la vita, bisogna andare sulle alt, comunque, una cosa che, mi fa piacere vedere, è che l'interesse ancora, non c'è, non c'è ancora, quell'interesse, guardo anche, i miei video, ve lo faccio vedere, prima di salutarci, notate come mancano, cioè, non ci sono chissà quante visualizzazioni, sì, per carità, sono leggermente aumentate, rispetto, a un po' di tempo fa, ma, sono ancora, comunque, non, chissà quanto alte, cioè, quando inizio a vendere bitcoin, 2600 visualizzazioni, ragazzi, tre giorni fa, i tutorial, sì, hanno visualizzazioni, ma ancora non tante, quindi, manca, manca ancora, quell'interesse, arriverà, perché arrivano dopo, però, ecco, mi raccomando, usiamo la testa, e, sfruttiamo, tutte quelle cose, che abbiamo imparato, nel bull market precedente, nel bear market precedente, per, ovviamente, goderci, questa bull run, ripeto, sarà epico, quello che succederà, ma scordatevi, che sarà, una cavolata, fare soldi in bull run, lo state vedendo, magari, tanti comunque, hanno fatto degli errori, per cui, occhio, e mi raccomando, sempre, cautela, ciao ragazzi, e noi ci vediamo, nella prossima puntata.